Purtroppo sì, ci sta girando così, ma penso che dobbiamo continuare così, perché la squadra ha fatto vedere l'ennesima volta un bel calcio, ha creato, ma alla fine non ha concretizzato, allora dobbiamo andare solo avanti per questa strada. Vabbè, sarei più contento che stasera con mio gol arrivi a solo tre punti, ma vabbè, sono contento di questi tre guardi e piano piano ci stiamo avvicinando a uno come Diego Maradona, ora non è male. Sono d'accordissimo, lo stiamo vedendo, le ultime partite che abbiamo disputate sono state ottime partite con ottime prestazioni, ma non ci danno ragione, allora per quello dobbiamo continuare così e sicuramente ritornerà come facevamo l'anno scorso, ogni stanno campionato. Ricordo bene, forse anche simile a quello di oggi, ma come ho detto, sono contento con questi tre guardi, ma mi piacerebbe che oggi facciamo tre punti e sarei più contento.